di famiglia aggiata, tipico esemplare di una certa borghesia romana. Viene scelto da Pietro Germi per la parte di un giovane operaio fratello della protagonista de L'Uomo di Paglia, benché i film successivi, Tre straniere a Roma, I Tartassati, Primo Amore, lo confermino come giovane attore di sicure speranze. Alla metà degli anni Sessanta esaurisce ben presto le sue potenziali. Indubbie capacità d'attore e chiude la sua carriera. Nel 1957 sposò Nenella Carotenuto, figlia di Memo.